Siamo collegati con l'amiraglio Giampaolo Di Paola, ex capo di Stato Maggiore ed ex ministro della difesa. Buonasera, amiraglio. Ecco, con un dispiegamento di truppe così massiccio, quanto è alta la probabilità che un semplice errore umano porti ad un conflitto armato? La probabilità in questi casi c'è sempre. Teniamo conto che c'è un fronte di contatto molto ampio e molto lungo. Però, a causa della forte attenzione mediatica mondiale su quanto sta avvenendo in Ucraina, io ritengo che le forze schierate da un lato e dall'altro siano sotto un forte controllo delle autorità militari e politiche delle due lati e quindi, da questo punto di vista, un incidente casuale è meno probabile. Ritengo più probabile un incidente invece magari voluto ad arte o simulato per determinare una reazione. In questo senso, mi sembra che il fronte più caldo sia la linea di contatto nel Donbass tra le forze regolari ucraine e le milizie separatiste filo-russe della Ucraina dell'est del Donbass. Grazie, amiraglio. A Palazzo Chigi ora perché il governo e la diplomazia italiana seguono costantemente l'evolversi della situazione ucraina. Grazie a tutti.